buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiremo e commenteremo anche l'evoluzione del calciomercato della roma devastate di like condividete con tutti i tifosi giallorossi e non che conoscete guardatevi i video fatti anche i cattomercati e i video precedenti e quest'oggi andiamo a costruire una roma molto importante vi avviso e viene una roma veramente potente con una rosa per me come la lazio di ieri forse anche più forte potenzialmente anche da scudetto e quali sono le direttrici che abbiamo seguito per fare il calciomercato della roma che mi avete chiesto voi venisse fatto contando su murigno allenatore molto semplice se l'obiettivo è quello di arrivare quarti con murigno devi vendere i giovani della primavera e rimpiazzarli con figurine devi costruire praticamente gli harlem globetrotter del calcio per arrivare quarto perché con con murigno è questa è questa la prospettiva che che c'hai davanti no sto scherzando scherzando sto fatto una battuta me la concederete a parte gli scherzi adesso andiamo con i giocatori che confermerei e quelli che invece cederei alla fine di questo calciomercato avremo un importante saldo positivo che sarà un più 50 circa quindi grosso modo andiamo anche a tutelarci credo su quelle che possono essere le esigenze del fair play finanziario perché si faranno anche delle plus valenze di un certo tipo e quindi credo che riusciamo a stare dentro ai paletti poi io do un'idea do uno schema non è che a tutti i costi devono arrivare tutti i giocatori indicati però do qualche idea do qualche pontatina allora portieri rui patricio lo tengo lo tengo vi devo dire avevo avevo la spinta a cercare un portiere più giovane e performante però onestamente sarebbe stata una cifra un po esosa contiamo su un ultimo anno comprensibilmente di rui patricio sperando diciamo nell'ottica romanista che non cappelli e poi dall'estate 24 si può fare quel tipo di switch per quest'anno andrei avanti con lui poi confermiamo svilare boer ok come boer nome del mio dottore d'infanzia quindi lo confermiamo solo per quello nelle nelle gerarchie sotto in difesa cederei bagnez qui non solo per esigenze di plus valenza ma anche perché a me non fa impazzire 20 25 milioni cercarei di farli mancini assolutamente lo confermiamo gli orente lo riscatterei ovviamente una cifra più bassa di quella che chiede l'is 11 milioni 12 proprio se proprio bisogna anche perché l'età non è più verdissima confermiamo smolling confermiamo cumbulla va benissimo un dica un ottimo acquisto secondo me quindi lo teniamo assolutamente anche perché è appena arrivato sulla sinistra teniamo spinazzola teniamo zaleschi cederei vigne cercherei di cederlo 6 7 milioni di euro anche perché al bornemouth non ha fatto male quindi può essere un mercato in cui può essere riproposto se non al bornemouth anche ad altre squadre di premier terzini destri selic lo confermerei carsdorp lo cederei a me carsdorp piace però ne approfitterei da un lato per fare un po di incasso dall'altro per quello che è successo con murigno visto poi che il giocatore rischia di andare a scadenza lo cederei 5 6 milioni così come cederei reynolds 3 milioni e mezzo 4 milioni 4 e mezzo quel che riesce a fare emissori lo inseriamo in una trattativa a centrocampo teniamo ovviamente cristante quando vi dicevo che era un totti più duttile tatticamente mi ridevate addosso invece è vero così come mi ridevate addosso quando andate a vedere la roma che costruì due tre anni fa il mio primo anno qui su youtube è una roma che se la metti oggi vince il triplete io vi proposi rogerio come terzino mi rideste tutti dietro oggi è seguito dal benfica dal borussia dortmund è un signor giocatore ma all'epoca rideste hashtag all'epoca rideste hashtag vergogna poi tengo matic darbo lo cederei 2 milioni 2 milioni e mezzo che poi ha avuto un infortunio ma può essere anche che sia un giocatore che in certi contesti può far bene perché il fisico ce l'ha poi camara non lo riscatterei assolutamente bove lo teniamo wainaldum non lo riscattiamo tairovic segno cessione 8 e mezzo anche qui un piccolo incisa reggello ho visto su twitter anche mangiante che ha detto capolavoro cessione tairovic ci andrei molto calmo perché nelle società tipo roma lazio napoli fiorentina dovrebbe essere il contrario cioè tu vendi giocatori vecchi e valorizzi i giovani che hai vendere giovani potenzialmente importanti ad una società come l'ajax che non mi sembrano i primi pirla che passano in materia di giovani per andare a fare una squadra di svincolati giocatori vecchi o pronti per cercare di arrivare quarti con murigno questa mente è il contrario di quello che io cercherei di fare ma vabbè segniamo 8 e mezzo tairovic poi pellegrini lo teniamo vigliarlo cediamo 4 milioni 4 milioni e mezzo quel che riesci a fare sulle tre quarti volpato lo tengo mi dispiace non andrei a cederlo volpato perché mi piace un buonissimo giovane di personalità volpato lo volpato non si tocca e il sharawi lo cercherei di tenere e rinnovare ok solvacchian lo cediamo dai ho capito veramente approfittane che l'hai preso a zero fai una plus valenza 6 milioni e mezzo 7 quel che riesce a fare 6 lo cederei diballa lo teniamo e per clayvert e perez andiamo a segnare le cifre di cui si parla per la loro cessione cioè 10 clayvert e 6 perez ecco perez venduto a 6 questo sia un buon risultato poi sulle punte abram lo teniamo anche perché non si può fare altrimenti belotti lo teniamo shomuro dove cerchiamo di cederlo 9 milioni 9 milioni e mezzo quello che riesce a fare per non farmi news valenza vada sai che con tutte queste cessioni abbiamo un incamerata di circa 100 milioni signori 100 milioni tondi dei quali si possono scorporare le plus valenze per mettersi a posto con il fair play finanziario e andiamo con gli acquisti non sono tantissimi ma sono tutti molto importanti iniziamo con il doveroso rafforzo per quel che riguarda i terzini allora io come prima istanza andrei dal Bayern München e farei leva sulla scontentezza di Nossir Masraoui che si è lamentato per non aver giocato molto mi piace molto un terzino solido di personalità con esperienza internazionale cercare di farmelo dare in prestito con diritto di riscatto giocherebbe assolutamente titolare nella Roma farebbe l'Europa League con Murigno per questi giocatori qua contare sull'effetto Murigno almeno quello che porti che convinca questi giocatori a venire dicevo Nossir Masraoui dal Bayern Monaco in prestito con diritto poi l'altra fascia ci andiamo a prendere questo è un affare a doppio senso Renan Lodi dall'Atletico che è stato prestato a gennaio al Nottingham può essere che rientri come esubero come giocatore potenzialmente in uscita dall'Atletico questo lo comprarei lo comprare anche per un altro motivo che poi vi spiego ci puoi spendere 20 25 milioni su Renan Lodi ce li spenderei perché è ancora relativamente giovane fino a un anno e mezzo due fa era uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa giocatore di esperienza giocatore anche lui di personalità lo andrei a prendere assolutamente poi al centrocampo approfitterei assolutamente di questa specie di sconto che tu hai dal Sassuolo per frattese assolutamente sì ne approfitterei lo porterei via alla concorrenza sia essa dell'Inter del Milan cercherei assolutamente se fossi la Roma di approfittarne quindi segno un 27 milioni e se tenete conto dello sconto magari se si riesce anche un qualcosa meno più il cartellino del solo missori del solo missori piuttosto che vendere volpato vado ad aumentare un po la cifra che spendo per riportare frattesi ma mi riporto frattesi ma volpato tu non lo vedi vedi missori missori poi e questo me lo dovete consentire io non faccio cattomarcati della Roma che non prevedano il prestito con diritto di riscatto di Rodrigo De Paul ho riscatto vado anche in fallimento imponendomi l'obbligo di riscatto su De Paul ma lo porto a Roma lo presento al Colosseo in una biga romana ok Rodrigo Don Rodrigo De Paul dall'Atletico in prestito e gli abbiamo comprato Renan Lodi apposta per imbonirgli gli dice guarda io ti compro Renan Lodi però mi dai De Paul in prestito così con un diritto con un obbligo con uno straccio di quel cazzo che vuoi ma tu mi dai Rodrigo De Paul chiudo con la promozione dalla primavera di un giocatore che mi piace moltissimo dei giovani della Roma che è Keramitsis come ambidestro il ragazzo gli facciamo fare come prima istanza l'alternativa ambicà come barcetto di sinistra ma volendo ti può anche fare da ottimo centrale sostituendo o Smalling o Kumbulla al bisogno veniamo all'attaccante qui ve lo dico molto brevemente cercherei di inserirmi nelle... qui intanto bisogna capirsi la Roma ha bisogno di capire che tipo di gioco vuol fare e la punta viene di conseguenza a me pare che la Roma voglia fare faccia un gioco di ripartenza cioè non è che c'è da vergognarsi non è che c'è tanto da vedere fai un gioco rude e sporco in cui stai tutta la partita quasi a difendere poi cerchi di ribaltare il fai ti serve una punta di ripartenza non capisco questo continuare ad insistere sugli Abram o giocatori alla Morata la Icardi che è gente che invece ha bisogno di una squadra possibilmente che sta alta che le rifornisce di occasioni quando tu fai un gioco diverso prenditi un giocatore da ripartenze e quale miglior figurina da ripartenze anche volendo prestante se non Lukaku Lukaku cercherei di inserirmi in questo discorso che non si sa se l'Inter lo riprende, lo rivuole, il Chelsea così probabilmente è un qualcosa su cui dovresti aspettare un po' dovresti aspettare che si definisca il discorso in negativo tra Inter e Chelsea problemi sul riscatto su cose arrivi tu e cerchi di dar la piazzata la piazzata la puoi dare riaprendo un futuro discorso su Abram offrendo più garanzie sull'obbligo di riscatto in qualche modo pagando di più di quanto farebbe l'Inter il prestito oneroso non facile ma Lukaku con Mourinho e Dybala sarebbe secondo me tanta roba o meglio tanta roba sarebbe l'attaccante giusto per te poi lui ha anche un conto in sospeso con l'Europa League quindi anche qui liquidi narrazioni su Lukaku che torna in Europa League stavolta magari decide in positivo che so che a voi piace e quindi può essere un'opzione se la considerate troppo ardita o difficile ripeto Lukaku può andarlo a prendere in prestito oneroso una formula un po' più bassa rispetto a quella con cui l'Inter l'ha portato in Italia quest'anno comprensibilmente o si vede se la considerate una pista un po' troppo ardita io magari farò poi un video se lo volete sulle alternative per il centroavanti della Roma però come prima alternativa vi posso indicare Beuto Beuto dell'Udinese Norberto Beuto Beuto che è un giocatore anche lui di ripartenza fisicato che alla Roma potrebbe starci bene portoghese come Murigno se vuoi andare a spendere di cartellino fare un investimento Beuto che è un'uscita credo io dall'Udinese può essere una puntatina che già feci tra l'altro quindi ricapitolo gli acquisti che poi molti sono prestiti Mazraoui, Renan Lodi, Fratesi, De Paul Lukaku e la promozione di Keramizis tra tutto abbiamo speso una cinquantina perché hai speso per i cartellini di Fratesi e Renan Lodi però tutto sommato poi sei fermo lì se fai conto dei soldi arrivati dalle eccessioni secondo me ci puoi ricavare A. i soldi di plusvalenza che ti servono per il fair play finanziario B. magari qualcosa in più per rafforzare qualche trattativa aumentare il monte stipendio e sei lì insomma sei lì sei lì però c'è una squadra secondo me formidabile allora vado con la rosa che rimarrebbe portieri lui Patricio Svilar Boer difensori centrali Mancini Indicaglio Oriente Smollin Cumbulla e Keramizis terzini sinistri Spinazzola Renan Lodi terzini destri Mazraoui Selic a centrocampo Cristante Matic Bove Pellegrini Frattesi trequartisti Volpato Zaleschi El Sharawi Di Bala De Paul punte Lukaku Belotti poi qui c'è da aggiungere alcune cose c'è da aggiungere tipo che Keramizis ripeto può fare la riserva di Indicag ma volendo anche di Smollin è una squadra questa che può fare il 3-4-2-1 ma anche il 3-4-1-2 Pellegrini e De Paul li puoi schierare nel 3-4-2-1 sia nei trequartisti che anche volendo a centrocampo se c'hai bisogno De Paul può giocare anche a piede invertito quando rientra Abram può anche giocare a due punte perché Abram e Lukaku possono giocare assieme volendo e Lukaku verrebbe in prestito quindi non ti pregiudica niente per l'anno dopo se vuoi continuare a puntare su Ebram è una squadra che sa di abbondanza di verticalità di competitività che oltretutto permette di non dipendere da Di Bala che lì adesso sei lì a farti il segno della cassa che stia sempre bene perché c'hai Pellegrini perché c'hai anche De Paul c'hai una rosa un po' più ampia e anche Matic con frattesi non deve fare Matic a 150 anni 46 partite che se lì anche lì a pregare che non gli succeda niente è un po' più di panchina di abbondanza Zaleschi e Del Sarawi oltretutto possono fare sia i trequartisti che anche gli esterni in fascia allora vado con una formazione titolare 3-4-2-1 Rui Patricio in porta difesa a 3 Mancini-Smalling-Dika Mazraoui Cristante Frattesi Renan Lodi potete anche metterci Cristante Matic come preferite o Matic Frattesi a seconda dei gusti 3 quarti De Paul Di Bala punta Lukaku questa è la mia Roma che cercherei di fare ditemi cosa ne pensate ciao